L'annuncio è di quelli clamorosi e potrebbe inaugurare un ciclo di eventi davvero incredibile. In un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Andrea Di Pressara Tommasi ha annunciato, ufficialmente, che sposerà l'avvocato, celebre per i suoi video in cui intervista bizzarri personaggi del mondo dello spettacolo e non. Si vede la Tommasi, bionda, che pare in realtà senza veli, anche se viene inquadrato dalle spalle in su. La sua espressione sembra allegra, anche se non esattamente seriosa, o meglio non di quelle che si assumerebbero in caso di un annuncio ufficiale, ma il suo messaggio è più che deciso. Ragazzi, oggi è il 19 marzo 2015 e sono le 21 minuto. È il presidente Sara Tommasi che vi parla. Mi sono fidanzata e presto mi sposerò a Las Vegas. Succederà a maggio con il mitico Andrea Di Press, l'avvocato. Volevo comunicarvelo sui miei social, ma purtroppo mi sono stati usurpati. In particolare Twitter che, anche se autenticato, non è gestito dalla mia persona. Fate qualcosa voi, vi prego. Di pre-l'adio e insomma le notizie che emergono sono due. Il matrimonio, annunciato a Las Vegas, dove i matrimoni celebrati non hanno tuttavia valenze in Italia, è anche che i canali social di Sara Tommasi sono stati sottratti alla showgirl, dopo il ritorno su FB del 2014. Sul post che presenta il video c'è appunto un messaggio che annuncia Sara Tommasi ci dice che non ha più accesso al suo profilo Twitter. Nello stesso momento appare sulla stessa pagina una fotografia che riprende Di Press a Sara Tommasi mentre si scambiano un bacio appassionato e la didascalia non fa che ripeterle quanto già si leggeva in didascalia al video. Dichiariamo ufficialmente il nostro fidanzamento e ci sposeremo presto a Las Vegas assolutamente secondo il rito di pre-ista. Che l'operazione, in generale, puzzi di semplice trovata per fare marketing, è cosa tutt'altro che sorprendente, visto che sarebbe tipico delle trovate di Di Press. Solo nei prossimi giorni capiremo quanto di vero c'è sotto. Chi se ne frega.